E rieccoci, questo è il Time Magazine, siamo pronti ad aprire una nuova pagina, l'avevamo promesso, saremo tornati a parlare, e allora questa volta abbiamo ospite in studio Mima Calabro, segretario regionale Fisa Scatcis, lo detta bene, assolutamente sì, vi ringrazio per l'attenzione che date sempre al mondo del lavoro e in più vi dico che mi ha fatto tantissimo piacere venire qui in studio, in bocca al lupo ragazzi, continuate in questa maniera. Noi teniamo duro ma soprattutto siete voi che dovete tenere duro perché questa avvertenza dei PIP all'inizio sembrava quasi poter avere un lieto fine perché sembrava una bella storia da raccontare e invece l'ultima sentenza ha dato una brutta mazzata a tutta questa sacca di lavoratori che da ormai decenni tiene e regge alcuni servizi fondamentali per la nostra società. Assolutamente sì, parliamo della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso della regione siciliana per il passaggio attraverso il primo comma dell'articolo 64 della legge 8 del 2018, così la diciamo tutta e per intero, il passaggio di questi lavoratori in Resais per realizzare l'agoniato sogno di una stabilizzazione. Non è un decennio ma sono vent'anni. Esatto, per i meno attenti lo diciamo, parliamo di persone che da vent'anni lavorano all'interno del tessuto pubblico, quindi di supporto, anche se poi di fatto è in sostituzione, nei fatti è poi una sostituzione, da vent'anni non mettendo da parte nemmeno un euro di contributi pensionistici, per esempio uno dei tanti disagi che subiscono. Questa è la cosa più scandalosa, tra virgolette, perché non sono ASU, non sono LSU, sono dei lavoratori che hanno un sussidio lavorativo, ma ci sono situazioni veramente allucinanti, a parte la parentesi della social trinacra, per cui per un anno e mezzo hanno avuto i contributi previdenziali versati, per il resto niente. Io dico che sono lavoratori che hanno tanti doveri e pochissimi diritti. Anche il riconoscimento di quanto previsto alla legge 104, per farglia riconoscere è stata una conquista. La maternità è stata una conquista. Quindi se sei in stato di gravidanza, fino a poco tempo fa, fino a qualche tempo fa... Sì, non volevano riconoscere nulla, quella è stata una battaglia che mi sono intestata, perché è una follia. Ma, dicevi bene, molto spesso non sono a supporto, ma agiscono e gestiscono attività di primaria importanza per la collettività. Sono impegnati negli ospedali e ringrazio tutti quanti, soprattutto nel periodo Covid, dove nessuno sapeva come muoversi. Queste persone non hanno minimamente fatto un passo indietro, sono stati lì pronti, a volte anche prendendo i bambini in braccio, perché non c'erano le barelle, portarli nei reparti. Lo dico sempre perché mi colpisce anche sul piano umano ed emotivo. Cioè non si sono mai tirati indietro. Parliamo di gente che si sostituisce anche in alcuni casi agli impiegati strutturati in servizi di amministrazione, in servizi pratici come la barella, per dire... Assolutamente sì, questo agli ospedali, ma diciamo che hanno lavorato anche per i fondi e la comunità europea. Addirittura. Sì, mi si dice che in alcuni casi, alcuni di loro danno un importante contributo nella gestione delle gare d'appalto. Nei traslochi, ecco, si va dal lavoro di manuale vero e proprio... Al lavoro di concetto vero e proprio in sostituzione a chi magari è preso come esperto. È una barzelletta, ma una lavoratrice ex PIP veniva cercata dai vari dipartimenti facendone il cognome con la premessa di dottoressa buongiorno, vorremmo notizie perché dovremmo interagire per quella determinata pratica. Quindi parliamo anche di questo. Le veniva riconosciuta di fatto un'esperienza tale, un rispetto tale, ma alla fine, contrattuale, niente. Anche negli ospedali, insomma, fanno servizi importantissimi. Senti, allora, noi oggi abbiamo anche il contributo di una persona che abbiamo intervistato, con Roberta Mannino in redazione, ma quello che ti volevo chiedere prima di un break musicale, ci è arrivato questo stop con questa sentenza? Quali saranno appunto i prossimi passaggi, le speranze che restano nei PIP? Ecco, qual è la situazione? Allora, intanto ti dico che queste persone, così poi mi aggancio subito, sono talmente integrate nel tessuto lavorativo della pubblica amministrazione che se devono prendere le ferie o quant'altro, devono raccordarsi non con i loro colleghi PIP, che magari sono in servizio, ma con i, li chiamano colleghi, giustamente, ma della pubblica amministrazione. Cioè, gli strutturati della pubblica amministrazione. Quindi con gli strutturati della pubblica amministrazione. Bene, adesso noi... Quindi fanno staffaggio con loro alla fine, praticamente. Assolutamente sì. Quello che tu mi chiedevi mi lascia parecchio preoccupata, perché se da un lato abbiamo avuto in più di un'occasione l'impegno da parte del Presidente Musumeci che a gran voce ha detto che laddove la Corte Costituzionale aveva sedato esito negativo alla stabilizzazione degli ex PIP, comunque lui aveva un piano B da tirare fuori. Noi ci siamo sentiti la settimana scorsa e non è saltato fuori questo piano B. Ancora questo piano B non è saltato. Vedo con impegno che quando il Presidente vuole prendere le forti posizioni anche col Governo nazionale, lo fa nell'altro interesse. E' il momento che lo faccia anche per questa vicenda. Che li battesse anche per questo. Non dimenticare 2622 persone che sono dei cittadini siciliani, che sono delle persone che purtroppo nel tempo sono sempre stati oggetto di promesse e di richiesta di voti bipartisan. Inevitabilmente. Quindi mettiamo un punto a questa cosa scandalosa. Allora, noi tra qualche istante continueremo la discussione legata appunto ai PIP con Mimma Calabro in studio, ascolteremo il contributo dell'intervista fatta da Roberta Mannino, un po' di musical Time Magazine e poi continuiamo con questa parentesi legata ai PIP. Problema col microfono evidentemente. Siamo nuovamente con Mimma Calabro per parlare dei PIP. Vediamo di sentire subito il contributo con l'intervista fatta da Roberta Mannino proprio a un esponente di PIP, una di quelle persone che lavora nel campo. Quando vi date l'occhietto alla regia possiamo andare. Siamo con Cristina Comparetto in qualità di PIP. Cristina, di cosa ti occupi e da quanto tempo? Allora, da 20 anni, PIP, siamo stanchi appunto perché 20 anni sono troppi, da 20 anni praticamente siamo impiegati nelle pubbliche amministrazioni, usciamo quindi da casa giornalmente senza avere versato un minimo di contributo, quindi non stiamo investendo niente sul nostro futuro. Stiamo lavorando per un futuro che alla fine è senza certezza. Stiamo lavorando così soltanto per un sussidio che ci viene erogato i 780 euro al mese e nient'altro più, dove la figura del PIP inizialmente nasce come una figura che doveva andare ad affiancare, doveva andare appunto a portare un po' di mano di lavoro affiancando una figura che si trova all'interno. Invece voi ora siete proprio dal soggetto principale. Sì, quasi da subito, perché per esempio iniziai nel settembre del 2001 in una scuola affiancando prima la segretaria, poi anche all'ufficio alunni, docenti. Poi siccome sin dall'inizio questi nostri contratti venivano finanziati per un certo periodo, poi venivano anche interrotti, per cui fra un'interruzione e una ripresa di lavoro sono passata al CSA, al provveditorato agli studi. E anche lì per esempio funzioni amministrative, computer riscatto pensionistico, quindi ricostruzione di carriera del personale, poi a giugno anche le convocazioni con gli insegnanti per le assegnazioni appunto per le graduatorie. Insomma hai rivestito molti ruoli che tra l'altro molto... Sì, sì, ma non mi fermo lì. Esatto. Da lì poi passo al territorio ambiente, sono stato all'unità di monitoraggio e controllo ai fondi POFESDR, mi facevano anche fare dei corsi alla programmazione a Piazza Sturzo. Ricordiamo che non siete neanche del tutto tutelati anche nel momento in cui avreste bisogno di un giorno di ferie, dovete... No, no, perché praticamente poi la figura diventa talmente rilevante, non da supporto, ma una figura appunto, diciamo, che è tanto quanto il dipendente controattualizzato e la pubblica amministrazione, per cui dobbiamo anche organizzarci per le ferie, con i colleghi, perché naturalmente mancando questa forza lavoro, le pubbliche amministrazioni si trovano parecchio scoperte, insomma parecchio inguaiate. Bene, grazie Cristina per aver detto la tua, cioè è una cosa che purtroppo va avanti da parecchio... All'ospedale ad esempio in questo periodo hai tra l'altro rivestito... Dopo l'esperienza appunto dell'assessorato, era il periodo in cui ci trovavamo assunti dalla social trinacria, che era una onlus, durante appunto il periodo del governo regionale Crocetta, che ritiene appunto che questa società appunto è illegale, quindi la dismette, non trovo una situazione di collocamento per questi lavoratori, e quindi anche sotto aspi, questa è la disoccupazione, andiamo a lavorare ugualmente. Poi io da lì passo in ospedale al 2015 all'azienda Villa Sofia Cervello, dove appunto ricopro sempre manzioni amministrative, tre anni di CUP, segreteria in ortopedia, e adesso poi il contodeposito di presidio vanno in sala operatoria... E come avete visto invece questi ultimi mesi, soprattutto in piena pandemia, avrete lavorato ancora... Sì certo, ma attualmente c'è la pandemia e noi siamo lì ogni giorno in ospedale a ricoprire appunto i nostri ruoli, anche perché siamo le figure ormai non, come dicevo prima, da supporto, ma delle figure appunto principali che mandano avanti la macchina, che fanno andare avanti la macchina, e quindi praticamente se devi andare in ferie ti devi giostrare. Io per esempio rientro domani, perché la collega che lavora pure in archivio con me va in ferie, quindi devo rientrare io. Dimmi tu, dico se questo è normale. Dopo tutta questa l'ora è giusto che veniate tutelati, soprattutto dopo anni di sacrificio, perché nel futuro dovete avere certezze. Certo, certo. Ti ringrazio Cristina per la tua veramente testimonianza, speriamo che prima cosa... Come me dico, siamo 2600 persone. Esatto, tu sei una testimonianza infatti di... Perché dico io come amministrativo, tanti altri colleghi si trovano nelle scuole, si trovano negli assessorati, si trovano al tribunale, si trovano nelle questure, insomma, si trovano ovunque, magari sicuramente mi scordo anche qualche altro posto, anche qualche pubblico di amministrazione, un po' ovunque si ricopriva appunto questi ruoli, dove appunto di amministrativi, dove di ausiliari, dove un po' di tutto. Anche in ospedale, per esempio, io ho parlato della mia figura di amministrativo, ma ci sono i colleghi che fanno proprio gli os veri e propri, gli os, sì, ferristi in sala operatoria, trasporto i medicinali alla farmacia e ai reparti, e quindi questo, lavoro in nero, autori legalizzati dal governo regionale e dal governo centrale, perché sappiamo bene, dico l'ultimo colpo a basso che abbiamo ricevuto il 13 agosto, da parte della Corte Costituzionale. Sì, la sentenza che vuoi ricordare anche tu? Sì, la sentenza che praticamente ritiene che sia costituzionalmente illegittimo il transito in Resais di questi lavoratori. E demanda alla regione siciliana di dover sistemare questa situazione. Che è la sentenza di cui stavamo parlando. Intervengo perché Roberta ha avuto davvero grossissima difficoltà a contenere l'esuberanza di Cristina Comparetto. Vediamo se l'ho ricordato bene, sono un genio. In alcuni casi la chiamano dottoressa Comparetto. Proprio perché è competente tanto quanto sono di più. Giusto per chiudere, allora, adesso quali sono i prossimi passaggi? Come vi muoverete? Perché immagino che nessuno si dichiara battuto dalla sua sentenza. Assolutamente no. Io non mollo assolutamente. Una cosa è certa. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici PIP nelle scuole e dire loro da questo microfono che devono pretendere gli stessi presidi di sicurezza che devono essere giustamente forniti al personale docente e non docente e che il contributo che danno è molto importante. Quindi laddove dobbiamo esserci i problemi che lo espongano e ci facciano sapere. Ecco, io non mi fermo assolutamente. Il 13 di agosto, lo stesso giorno in cui è uscito la sentenza, ho scritto una richiesta di incontro urgente al presidente Musumeci, non è ancora arrivato nulla, e al ministro Catalfo, ministro siciliano. Credo che nessuno meglio di lei conosca la situazione di precarietà che vive la Sicilia e quindi approfitto del vostro microfono per lanciare un appello al ministro. Ministro, se è vero come è vero che la materia di cui ecco si è occupato la consulta dicendo che appunto ad essere materia di livello nazionale del governo centrale ecco che intervenga, incontriamoci, parliamo, ci sono le soluzioni a portare perché bisognerebbe fare un emendamento che modifichi un articolo della legge 175 e quindi far sì che le persone possano finalmente avere, ricevere la giusta, agognata stabilizzazione perché dobbio dire basta alle campagne elettorali che si susseguono fatte sulle spalle di chi lavora basta, né tantomeno permetterò a nessun politico e questo dico a voce alta che utilizzi questa, come dire questa ferita, questa vertenza dei PIP che non sono stati stabiliti che non si possono stabilizzare data appunto la sentenza della consulta di fare a scarica barile ognuno si assume la propria responsabilità il che significa che bisogna fare quadrato intorno a questa vertenza in maniera bipartisan da destra a sinistra, centro e quant'altro fuori le logiche politiche dentro il buon senso ma solo col buon senso dando dignità a 2622 lavoratori a 2622 famiglie che dire, grazie allora a Mimma Calabro torneremo a parlare di PIP perché fintanto che non si risolve per noi resta un argomento caldo assolutamente sì grazie ancora e in bocca al lupo a tutti quanti ciao, grazie a tutti Time Magazine